genuani si resta il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a genuani ma che sono comunque rimasti genuani genuani si resta perché questo titolo si dibatte spesso sul genuani si nasce genuani si diventa eccetera eccetera e questo dilemma vale per tutte le tifoserie beh questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano è ma che per variati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno ogni weekend ogni volta che la sua squadra gioca a qualsiasi ora del giorno e allora genuani si nasce si diventa ma soprattutto si resta saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar prima o dopo una partita del nostro grifone a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno ha solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo sarà solo un bar lontano migliaia di chilometri come diceva annunzio filogamo cari amici vicini non siamo allenatori né direttori sportivi né giornalisti e tanto meno ex calciatori al limite ex mediocri pallonari ma siamo tifosi quello sì e spesso nemmeno troppo obiettivi beh non aspettatevi troppo obiettività in questo podcast faremo del nostro meglio ma non garantiamo nulla benvenuti alla prima puntata di genoni si resta edizione italia io sono enrico e con il mio collega tobia diamo il via anche con un po di emozione a alla sezione italiana di genoni si resta cioè il format del podcast che all'inizio era dedicato solamente ai genoni che che vivono all'estero e che adesso diciamo inizia ad accogliere al suo interno anche tutti quei genoni che per fortuna o per sfortuna non abitano a genova e che però rimangono sul suolo italiano oggi come dicevo è la prima puntata di questa di questo format e accogliamo il primo ospite da arezzo il suo nome e cognome sono alfredo accogli è un giovanissimo a 25 anni mannaggia lui del 23 marzo del 97 29 29 a ok perché quando la scheda nella scheda c'era scritto 25 quindi è stato un refuso io poi dalla data di nascita non sarei mai grado di estrapolare il gli anni che l'età che hai perché la matematica non è assolutamente il mio forte e appunto è un genuano di arezzo ma la cosa particolare è che non è non è di genova quindi è proprio tu sei proprio il prototipo di genuano che vogliamo andare a cercare non soltanto il genuano che ci è dovuto trasferire all'estero o in un'altra città italiana che va benissimo anche quello ovviamente ma vogliamo andare a sondare l'animo umano per capire quale tipo di perversione possa portare una persona normale a attifare il genoa non è non vivendo a genova quindi essendo scevro da 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 quel tipo di di magari di influenze che abbiamo avuto noi da piccoli che ci ha portato avere questa malattia inguaribile alfredo qual è il tuo problema io sono nato all'arezzo da famiglia di lecce quindi diciamo che dal punto di vista calcistico ricollego come squadra territorio non l'arezzo ma il lecce e però sempre ti fatto fin da quando avevo dieci anni e undici anni mi è sempre piaciuto il genoa ma è nato molto per caso da come avevo anticipato primo un primo momento dove da bambini tutti ti fanno quelli che vincono sempre era tipo il 2004 c'era la fin 2003 2004 c'era la finale mila juve di champions e quindi lì cv tutto di fare mila però quella è una cosa dalla così veramente tenerissima età poi finito il tifare chi vince sempre mi piacque così il genoa e mi sono sempre appassionato e non saprei nemmeno dirti quale fu il motivo iniziale ti posso dire che tu fin da quando ho iniziato però sempre appassionato molto ero vivo in maniera molto molto così passionale niente beh anche perché non c'è un altro modo di vivere la giornalità secondo me hai detto via cosa ne pensi sì no ecco esatto ma è un genuano non passionale è un doriano per noi quindi anche perché c'è una cosa che via via ho capito anche se non è nata con motivo preciso però si è subito impostata in questa maniera qui molto molto emotiva eccetera ed è un modo di vivere il tifo che mi è sempre piaciuto e quindi questo è diventato anche il motivo per cui mi sento genuano molto perché si vive il calcio in una maniera che mi piace molto a me proprio molto dentro molto sentendola e mi è sempre piaciuto viverlo così il calcio ma guarda se i genuani fossero genuani per motivi calcistici probabilmente ci sarebbero forse una decina di genuani sì no ma infatti ma appunto questo a me non interessa niente dei risultati è chiaro che poi durante la partita quando non si vince poi non sono molto tranquillo però nella visione d'insieme ecco più che risultati sportivi queste cose mi interessa viverla viverla come sappiamo insomma come la vivere tra l'altro ci avevi già anticipato che è diventato un pochino genuano per caso e che appunto quello che ti aveva un po' più colpito era proprio questa partecipazione questo attaccamento della nostra tifoseria che tu consideri una delle cose più importanti del calcio per me veramente il calcio sebbene abbia pochissime possibilità di andare negli stadi perché qui è uno stadio di serie D altrove comunque impegnativo impegni un po' dura però per me va vissuto sempre con lo stadio pieno cioè potessi andare veramente sempre ecco proprio questo mi volevo ricollegare da quello che capisco non sei mai stato però a Marassi a vivere il nostro tifo no perché a Genova io sono stato una volta sola quando in Genova o c'era una sosta o giocava in trasferta ok l'embraio 2018 quindi è stato un amore per il nostro tifo però senza averlo mai vissuto da via paradossalmente l'unica volta che sono stato a vederlo dal vivo è stato quando era all'università a Roma e all'olimpico in una trasferta vietata quindi ero l'unico allo stadio l'unico genuano era vietata ai residenti in Liguria ovviamente da buongenoano anzi forse ero l'unico perché hai esordito con una bella sconfitta ovviamente da buongenoano sì sì 2 a 1 autogol e poi la Padula e tra l'altro io sono stato a vedere anche sono stato a vedere anche il Lecce a Lazio-Lecce l'anno dopo e anche lì sconfitta con il gol di la Padula quindi la Padula che non segnava mai due volte allo stadio e due volte gol scrivigli, fatti assumere da lui perché gli cambi la carriera vai tutto via se hai qualche domanda da fare al nostro ospite ma vabbè io direi che al di là poi della giornalità non interessa tantissimo conoscere ovviamente te come genuano ma anche un po' poi in posto in cui vivi e qui in questo caso Arezzo e anche un po' l'obiettivo che ci siamo posti noi come format è quello di capire un attimino quale può essere la percezione del Genoa e dei tifosi del Genoa in città che non sono Genova in questo caso di nuovo Arezzo è quella che ci ha lasciato preziosi purtroppo quindi viviamo ancora di quel retaggio lì sì sì noi quante me ne hanno dette dopo cos'è che era Fiorentina-Genoa Genoa-Verona che ero in vacanza all'Argentario con amici sono arrivati quel giorno lì iPad 3 a 0 tra l'altro mi toccava anche di fare contro il lecce e niente biscottari nerd si è scansato Juric tutta quella roba lì mamma mia e quella ancora purtroppo cioè ora può darsi che con un ritorno in serie A eventuale si mano mano andrà via però sai sono cose che comunque cioè sono rimaste si vede no in Italia com'è quella percezione lì e sono rimaste molto segnanti ce l'abbiamo noi figuriamoci fuori quindi scusami se capisco bene tu comunque mi parlavi di una percezione dei tifosi leccesi comunque più che altro perché no 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 percezione in Italia sì 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 no 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 ok ok però mi parlavi prima del biscottario anche lì ad Arezzo ok ok quello dicevo no no era in vacanza con i miei amici di Arezzo all'Agentario guardavamo l'ultima giornata 3 agosto ok e tu quindi non vai a vedere l'Arezzo al di là che al di là che poi no no io carcisticamente non so niente dell'Arezzo perché adesso è in serie D no? credo sia in serie D ma sì 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 conferma quindi diciamo ha avuto una caduta so che quando ero piccolo aveva degli anni in serie B mi pare un anno c'era l'anno con la Juve e Genoa quegli anni lì ma anche la prima corsa io mi ricordo io mi ricordo di essere stato ad Arezzo l'anno l'anno di Cosmi eh esatto anche nel 2004-2005 mi ricordo era stato uno degli delle interminabili serie di pareggi che avevamo subito nel nel girone di ritorno eh vincevamo mi sembra prima uno a zero poi uno a uno poi due a uno e poi due ad uno cosa del genere eh sì ero stato ad Arezzo con uno degli ultimi treni speciali che sono stati che è stato possibile fare eh diciamo che non avevo visitato molto il centro per la tipologia di trasferta ma Arezzo comunque è un bel posto no? eh sì diciamo che più che più che città è un paese un po' più grande poi fa provincia ma insomma è un luogo dove un po' ci si incrocia tutti ci si conosce bene o male se non tutti almeno buona parte delle persone o le conosci o le hai viste quindi quanti abitanti fa Arezzo? eh credo centomila ah beh sì quindi però diciamo ti parlo del centro chiaramente sì 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 non ho capito il tipo di dimensione chiaro assolutamente sì sì vantaggi svantaggi e tu quindi studia ancora adesso cosa fai lì? io ho finito sto finito adesso la pratica d'avvocato e il tirocinio tribunale ora farò qualche concorso pubblico o l'esame d'avvocato insomma beh insomma sono avreste due anni fa 2020 novembre 2020 ah ok quindi sei proprio in pieno cursus honorum eh sì sì e beh dai magari un un weekend riuscirai a a sbloccarti quest'anno ecco no sempre tornando alla questione dello stadio quando era a Roma era proprio lontanissimo era infattibile allora dissi finita l'università andrò a vedere qualche partita e pandemia porte chiuse tutto quello che è non sono mai potuto andare l'anno scorso come prima volta non mi sembrava il caso in un campionato come quello appena trascorso quindi ho detto aspettiamo direttamente il prossimo indipendentemente dalla categoria quanto dista Arezzo da Genova quanto ci metti più o meno due tre ore ci vuole no ci vuole perché quella volta io andai in treno ma in treno devi andare fino a Pisa e poi e poi da ricambiare ci mesi quattro quattro ore quattro ore e mezzo in macchina non sapre ma comunque è un bel posto tra l'altro tra l'altro non ti viene comodissimo neanche andarlo a vedere in trasferta quest'anno perché non ci sono tante squadre toscane direi eh sì giusto Terugia sì che comunque sì che avvicinano il Pisa ci abbiamo appena giocato poco fa quindi eh sì ma col Pisa ero ero in Sardegna quindi sì sì meglio così beh abbiamo vinto però meglio meglio la Sardegna da un certo punto di vista sì sì e ad Arezzo invece cosa cioè come si vive a parte ovviamente la dimensione di una piccola cittadina di quello che può essere una città di provincia ecco quali sono le cose principali di Arezzo ecco un turista può vedere ah da vedere beh la città è tutta medievale ci sono barra rinascimentali ci sono affreschi di Pio della Francesca il Duomo è medievale ci sono un po' di c'è una manifestazione l'estate della della Giostra del Saracino quindi diciamo che c'è il crucifisso di Cimabue al Duomo quindi diciamo che dal punto di vista della cultura arte c'è molto da vedere seppur si fa tutto in una giornata alla fine proprio perché il centro è molto piccolo quindi visitabile tranquillamente in un giorno infatti io non ci ho mai fatto caso ma mi pare di aver sempre capito che molti che vengono nella nostra città come turisti magari parte di un più ampio giro della Toscana e e magari nello stesso giorno passano prima da Siena poi da Arezzo e poi magari dormire a Firenze cose di questo tipo poi non lo so magari sicuramente c'è anche qualcuno che per notta però molto spesso uno in un giorno vede più o meno tutto tant'è che quest'estate venne anche a trovarmi un mio amico di Roma dell'università gli ho fatto vedere un po' la città ma in pomeriggio e poco più abbiamo fatto tutto però quello che c'è va la pena sicuramente quindi consigli una visita ad Arezzo e invece tu diciamo come no 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 ma ne sono convinto ne sono convinto io poi mi piace un sacco girare per per borghi medievali prima di trasferirmi in Spagna Arezzo era era sulla mia lista ma non sono riuscito a smarcare un po' da camminare in salita perché ma noi liguri siamo abituati a camminare in salita quindi quello non ci spaventa invece sono curioso una città che quindi comunque abbastanza un paesone però a volte ci sono città paesoni in Italia tipo non lo so per esempio Bologna ok che comunque nascondono anche una una movida che è all'altezza di città più grandi tu da giovane tante di Arezzo come te la vivi a livello di libertà diciamo che molti dicono che è un po' smorta così è vero che durante la settimana non c'è niente da fare ma non esce neanche voglio dire di venerdì e sabato secondo me è un po' ripetitivo perché i punti aggregazione meno male sono sempre quelli il centro è piccolo vedi sempre la stessa l'agente però sicuramente se uno vuole da fare venerdì lo trova perlomeno c'è sì sì anche io esco molto sicuramente guarda mi ricorda tantissimo Savona che è dove sono cresciuto io a parte diciamo il valore artistico che è quello di Arezzo è sicuramente superiore stiamo parlando più o meno di dello stesso tipo di situazione stesso tipo di di cittadina come dimensioni come come cose da fare poi sì queste cose sono anche relative perché anche quando sono stato a Roma per esempio a volte qualche qualche weekend c'era un po' poco da fare anche meno rispetto ad Arezzo ma perché perché non devi considerare Roma la sua totalità devi considerare il quartiere in cui sta perché praticamente stare a Roma in un determinato quartiere come stare in una mini città all'interno del tutto è inutile dire c'è questa cosa sì però è dall'altra parte della città sono 60 km allora potrei dire vado a Firenze a fare qualcosa quindi devi considerare quello e quindi all'interno se tu fai il confronto non con Roma in tutto ma i singoli quartieri che la compongono perché quello è il termine di paragone alla fine non è così diverso non hai detto una cosa stupida poi quello dipende chiaramente dalla qualità dei trasporti di una città perché per esempio io qua a Barcellona allora sa a Roma si è fregato esatto esatto io qua a Barcellona non è chiaramente grossa come Roma a Barcellona però se te sei facendo serata da una parte della città e c'è qualcosa che lo scopri all'ultimo momento c'è un evento totalmente dall'altra parte della città soprattutto il sabato c'è la metro tutta la notte che raggiunge qualunque lato più recontito della periferia dipende chiaramente dall'efficienza e dopo dopo ti sembra un paesone anche se sei a Barcellona però chiaro in Italia spesso e volentieri per esempio a Roma mi pare che mezzanotte l'una chiudesse almeno quando forse il sabato l'una e altri giorni alle 10 una cosa del genere e quindi chiaramente non potevi permettersi di andare da un'altra parte troppo lontano la macchina non veniva con la macchina mai perché si distruggeva se guardavi le macchine parcheggiate lì erano tutte ad Arezzo si dice ammaccate ammaccate come è che si dice ad Arezzo scusami dicevo com'è che si dice ad Arezzo mi piace a questo proposito hai ragione è bella questa cosa perché poi vedi anche noi ci dobbiamo un po' abituare a fare questo podcast quindi stiamo imparando insieme a te Alfredo in effetti una cosa curiosa è imparare i detti regionali ma anche quelli col fatto che comunque io di famiglia sono interamente meridionale perché quella di mia madre è calabrese e quella di mio padre è leccese quindi di aretino l'accento qualche parola che si usa nell'esilio però per dire sono convinto che anche un calabrese che vive a Genova impara a dire Belin per esempio no da noi c'è l'equivalente che è alò che si usa per qualsiasi cosa a seconda dell'espressione del tono cambia il significato alò che sarebbe allora però tipo sì quanto dico l'etimologia sarebbe napoleonica dal francese e diciamo che si può usare di base sbrigati però puoi dire anche alò nel senso che palle non è mai stufato alò nel senso sarà non vieni è un po' una parola jolly è come Belin che è una virgola puoi dirlo da incavolato puoi dirlo da contento puoi dirlo per sottolineare una frase insomma puoi esprimere qualunque stato d'animo dipende tu dal tono in cui lo dici è tipo la gag di Checco Zalone con me quando c'era la tradizione è la stessa cosa è la stessa cosa Harry non ricordo bene la scheda ma appunto parlando magari delle tue origini leccesi c'è una situazione menaggio da affrontare perché essendo la tua seconda squadra è Lecce noi genuani abbiamo bellissimi ricordi del Lecce soprattutto nella stagione 2010-2011 quando il Lecce si salvò a discapito di quelli che qualcuno chiama i nostri cugini e col famoso coro din don din don intervengo qui da Lecce assegnato Cimè Anton raccontaci un po' di Lecce e del calcio a Lecce ecco eh il calcio a Lecce è molto simile a quello a Genova cioè super partecipazione infatti ha credo la sesta tiposeria in serie A per abbonati ha fatto un numero mi pare pressoché simile a quello del Genova 20.000 circa mi pare 19.900 una cosa del genere è molto è un po' diverso perché si critica un po' di meno cioè si è molto più compatti ma anche io stesso nel vivere uno stesso episodio lato Lecce o lato Gena lo vivo in modo diverso non so perché ma è così cioè questo è interessante è molto interessante questa cosa qua ma dice sempre ma c'è proprio una fiducia almeno quello che ho percepito io poi anche da lì sono lontano ci vado 15 giorni all'anno a trovare parenti d'estate quest'anno neanche sono andato però la io veramente vedo che viene vissuta così mi ha dato sempre l'impressione di essere vissuta così cioè c'è proprio una fiducia incondizionata io veramente a Corvino gli darei le chiavi di casa quando ha preso tutti questi stranieri per fare la Serie A no? ha visto però con chi gioca Gonzales casinato col Monza Sisse Banda questa gente qua se la prendevamo noi a Genoa io ero impazzito sono impazzito sono impazzito tranquillissimo per Ivoa e Friend Group e Gudmundson quindi certo ti capisco se probabilmente dovuto anche un po' io sono impazzito quando ho preso Sisse io ero tranquillo cioè è così probabilmente è un po' dovuto anche a internet magari quello che trovi sulle chat di Genoani che mugugnano oppure quello che trovi sulle chat leccesi che dicono ha presa bene questa Sisse può darsi anche quello di influenze negli ultimi anni comunque meno male da quando c'è stato dalla fine di questo incubo Serie C dal 2018 poi è stato sempre tutte annate positive perché comunque anche la retrocessione te la sei giocata va bene così e tutti gli altri anni o hai vinto i campionati o hai fatto quell'anno lì che è andata in alla salernitana che abbiamo perso proprio buttando via le ultime 3-4 giornate comunque tutte annate belle positive per il Lecce sì vabbè c'è anche da dire con tutto il rispetto per il Lecce ovviamente ci sono pretese ci sono forse necessità diverse comunque Genova la piazza più importante forse no anche proprio diversa disponibilità rispetto anche solo anche a prima e anche rispetto a preziosi la disponibilità economica del Lecce era inferiore figuriamoci quindi pretendi anche di meno eccetera però un dato comune sicuramente che anche lì c'è una grande partecipazione anche le trasferte comunque le vedi mi ricordo la partita appunto con la Lazio in cui sono andato ero con amici quindi andammo negli istinti accanto alla curva ospite ed era tutto pieno sciarpata belle c'erano anche altri delle Celi imbucati e uno della Lazio iniziò a cacciarli con una bandiera le porto fuori guarda io non ricordo l'anno erano tantissimi anni fa perché addirittura ero proprio nella scuola calcio forse il primo anno di allievi ma neanche forse ancora prima e siccome la società di calcio per cui giocavo era nel satellite Milan ci avevano portato a vedere una partita al Meazza Milano ed era Milan-Lecce Milan-Lecce mi sembra che fosse finita una cosa come 4-1 era un Milan con un chef 5 era una cosa pazzesca però sì anche io devo dire mi ricordo molto sfocatamente una presenza leccese parecchio massiccia insomma Milano comunque molto lontano poi il Meazza è uno stadio enorme e si vedeva lontano che era favorito perché ce ne sono tanti che vivono fuori a Milano sì sicuramente qualunque campo c'è gente lì vicino che è di Lecce sicuramente quindi fare le trasferte numerose le vedi sempre proprio perché sono un po' dappertutto comunque io ho sempre avuto un'impressione oltre che di una tifoseria come dici tu presente calorosa ho sempre avuto l'impressione coraggimi se sbaglio proprio di una tifoseria festosa anche cioè non so come dire il Genuano ha un sostegno magari incessante però i Leccesi mi danno l'impressione proprio di essere proprio che fanno festa non so come dirti anche che gli piace essere un po' ricollegati con i colori reg queste cose qua sì sì li vedo un po' assolutamente vabbè c'è un po' nell'immaginario collettivo diciamo la Puglia il Salento più che altro magari un po' come la Giamaica d'Italia ecco no nel senso questa vibe un po' reggy un po' ma volevo capire appunto sì mai diciamo mai tradotto un po' meglio quello che intendevo che magari è uno stereotipo che abbiamo noi perché poi è bello sapere che cosa pensano dei genovesi o dei genoani gli altri all'esterno ma è bello anche capire il contrario a volte se noi abbiamo uno stereotipo su una regione che poi magari non è così giammai che forse no però sì sicuramente il clima pestoso cioè che si riflette anche poi nella tifoseria e vedo che tu come hobby e passioni mi hai messo che molto particolare che sei che ami il karaoke quindi ti piace ti piace ti piace cantare ma sì anche questa è una cosa che mi è sempre piaciuto e quando capitano occasioni così i compleanni laurea quello che è matrimoni cose e c'è il karaoke sono sempre il primo a volte lo chiedo esplicitamente se è possibile farlo è capodanni anche mi pare sei come me che per farlo devo alzare un po' il gomito oppure sicuramente me lo aiuta però mi è cambiato anche da sobrio dopo un po' però quando non ne hai più devi per far sapere qualcosa se no non 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 interessante interessante quindi vabbè quindi speriamo di vederti presto anche a anche a cantare ingradinata che lì il gomito il gomito lo puoi alzare tranquillamente lì senza problema ecco anche se che tu non abbia bisogno o meno ecco ma invece una domanda sempre calcistica Genoa Lecce chi tifi? lì dipende un po' è dipeso un po' dalle situazioni per esempio nel 2020 lì ti fai molto per il Genoa proprio 100-0 perché avevo veramente paura di andare in B con preziosi in mente non avevo nessun dubbio sul fatto che il Lecce sarebbe risalito subito cosa che è successa non l'anno dopo quello dopo ancora su questo scorso quindi avevo veramente paura che andando in B con preziosi finivamo chissà dove e quindi ho sperato che si salvasse il Genoa bene quindi tutto qua perché comunque noi abbiamo diciamo noi amiamo molto i Leccesi proprio per l'episodio che citavamo prima della serie B qui da Lecce ha segnato quell'altro anno lì invece si si rischiai di essere buttato fuori dal gruppo del Lecce l'equivalente del gruppo perché poi appunto un po' perché scrissi una perché a metà anno scrissi una cosa che non mi andava non mi piaceva di Liberani un giocatore non mi ricordo uno mi guardò nel profilo vide che avevo anche il like alla pagina del Genoa e mi prese a merda e qualcuno ripescò sta cosa negli ultimi giorni nelle ultime giornate però io guarda non so i motivi non so non facendo parte del mondo ultra non ho un minima idea magari Enrico può anche saperlo però tra Genoa e Lecce a livello di ultra c'è comunque rispetto amicizia ecco non sono due due tifoserie ostili ecco sì io vedo solo che c'è un po' di livore per l'ultima retrocessione del Lecce penso per Genoa Verona queste robe qui ma insomma poi non è che nessuno ora va a pensare penso che se chiede uno del Lecce cosa gli importa adesso niente sì no no beh io ricordo quell'anno lì vabbè ci sono stati episodi dubbi da ambo le parti per carità però il Genoa gli scontri diretti li ha vinti tutti e due quindi poi si è stata meritata non mi pare poi con una squadra tutte e due una era più forte davanti l'altra più forte dietro e alla fine ha vinto il Genoa con un po' di difesa in più no parellecce ha preso una decina di gol in più sì e c'era ricordamolo c'era Liberani in panchina giusto sì 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 c'era c'era Liberani Liberani che ha riportato tutti quelli là a Cagliari e ha portato Mancosu e ho visto pure Falco addirittura Falco sì 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 ma è una squadra che proprio per stile l'abbiamo visto anche a Genova gioca con la difesa molto alta un allenatore a cui piace giocare a calcio ma prende delle imbarcate sì no infatti mi stupisco quest'anno che abbia preso solo 7-8 gol cioè un gol a partita di media perché di solito la media del Lecce è fare il doppio dei gol che ha fatto e prenderne il doppio invece ne ha presi pochi vabbè te la lasciamo l'ultima partita con Monza che l'abbiamo visto tutti i mamma mia sì 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 allucinanti non so come hanno fatto guarda stai parlando con due penso Harry tu possa confermare che vivono il Genoa H24 io non so neanche che squadre ci sono in Serie A quest'anno cioè mi hanno chiesto di partecipare a qualche fantacalcio e ho declinato perché non ho idea di chi gioca dove non so se tu Harry la vivi uguale io vabbè lo sai io e te ma H24 vuol dire H24 nel senso che sulla chat di Genoani si resta chiaramente si collega gente da tutto il mondo perché sono tutti quelli che sono stati invitati le puntate c'è gente a Singapore gente a New York da tutti da tutte le latitudini e quindi scrivono a tutte le ore ma io io e Tobia il commento c'è sempre anche alle 3-4 di notte non si capisce come facciamo no e non abbiamo tempo dobbiamo seguire la chat di GSR non possiamo guardare anche anche la serie A no invece siamo licenziati invece è una cosa bravo che hai nominato il Fanta Calcio perché fra gli hobby che ha nominato nella sua scheda Alfredo c'è proprio il Fanta Calcio e dice di avere nel palmarès diversi titoli quindi magari adesso adesso lanciamo la lo stacco pubblicitario e poi dopo parliamo un po' di più di questa faccenda qua che magari così poi la gente che a casa ti ascolta ti viene a rompere le scatole sul tuo profilo Facebook per chiederti consigli su Fanta Calcio dai allora ci vediamo fra poco siamo di nuovo qua con GSR Edizioni Italia con Alfredo Accogli e stavamo parlando appunto della sua passione per il Fanta Calcio no? insomma nella tua scheda ci hai dichiarato di avere già qualche qualche titolo all'attivo no? nel palmarès raccontaci un po' di questa tua passione e che formazione hai quest'anno allora a questo punto quest'anno male sai quest'anno non 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 allora i primi anni per un po' di tempo non l'ho fatto perché non sapevo ma è una cosa stupidissima perché pensavo che si dovessero calcolare a mano i voti ma chi ha il tempo di fare sta roba poi verso il 2016 17 scoprì che faceva tutto il computer e inizia a farlo no diciamo con molta fortuna a parte gli scherzi mazza sei fortuna ho letto il Fanta Calcio l'ho vinto ho beccato veramente delle congiunzioni astrali incredibili hai vinto un Fanta Calcio no? come hai scritto nelle note 22 uno l'ho vinto il primo che ho vinto l'ho vinto con sbagliato Guagliarella che ha fatto 26 gol sì perché non riuscì a prendere non so chi era Iguaini Immobile sta gente qua che volevano tutti e avevo intuito che Piontek avrebbe fatto una barca di gol era la seconda l'asta si faceva dopo la seconda giornata che chiudeva il calciomercato e tutti in tutte le leghe andava uno due così e io arrivai a offrire 60 però me l'ho preso la 61 e lì lo lasciai però sbagliai un po' tutta l'asta e dovetti fare l'attacco il classico attacco strano con tutti quelli delle provinciali e mi ritrovai con Ciccio Caputo all'Empoli Zappata al primo anno all'Atalanta che non aveva mai fatto più di 12 gol e Quagliarella che ne ha fatto 26 hai spaccato tutto qui Zappata fece quello che ha fatto Atalanta in Champions caputo 16 gol e Quagliarella gli diedero penso 12-13 rigori che c'era una marea rigorella infatti lo chiamiamo a Genova erano lì quindi ebbi una fortuna spacciata con l'asta però il calendario male beccavo sempre quello che faceva un sacco di gole infatti vinsi all'ultima giornata di un punto perché era nella stesso giorno di Florentina Genoa perché il mio avversario aveva i portieri della Juve e non Pinzoglio e aveva preso consigli e giocarono Pinzoglio e Pegolo giocò senza portiere e vinsi 1-0 quindi salvezza del Genoa sì salvezza del Genoa vittoria vittoria il Fantacar cioè apoteosi e per poco il gol di Nainggolan stava anche per far perdere quello che si giocava al primo posto con me che poi per mezzo punto vinse lo stesso ma io appunto vinsi 1-0 per questo fatto del portiere e gli rimasi sopra di più uno mentre un anno ho sbagliato un anno ho pagato no cioè un anno avrei dovuto pagare però facemmo la Coppa di Lega vinsi quella con Simi che fece 25 gol 22 gol quello che era e l'anno scorso invece proprio è una data da Dio perché ho speso tutto per immobile e a un credito negli ultimi 4 slot ho preso Pedro a due crediti e poi ho preso Mertens a 1 perché nessuno voleva che giocava così man Leao che aveva fatto massimo 5 gol quindi non era considerato da fantacalcio tra virgolette Simeone all'ultimo slot e poi avevo Simi che fece schifo e quindi mi ritrovai con Immobile Leao e Simeone e il calendario più facile di tutti e quindi ho vinto con 20 punti di vantaggio quella proprio apoteosa domanda scusami mi è venuta in mente una domanda simpatica fantacalcio serie B ok se esistesse qualcuno che lo facesse lo farei ma hai 100 crediti su chi li butti in serie B quest'anno in attacco su un giocatore beh su coda penso che ipotiti l'hanno fatto che ho visto qualche applicazione strana ma era veramente folle farlo l'hanno fatto tutti buttavano su coda ma per forza dai beh folle non so guarda che c'è anche il fanta del calcio argentino è che quindi sono ancora più ancora più folli perché al di là di Bocca River sfido io conoscere i giocatori del Gimnasia della Plata e quindi vabbè tu li conosci che sei un maledetto fanatico no no io guardo solo serie A e serie B ecco anche la serie B a prescindere dal Genoa l'ho sempre guardata proprio così anche per a tempo perso qualche partita l'ho sempre guardata i playoff mi sono sempre piaciuti infatti ora vale che ci sia la prossima giornata ci dovrebbe essere Frosinone Palermo che è il remake di un playoff storico Frosinone Palermo mi sembra che era quella partita strana sì sì quella dei palloni di Sano Maiello sì 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 è un'altra partita leggendare dei playoff credo sia stata sempre del Frosinone quella col Carpi che l'arbitro gli fiscò tutto a favore in nove e poi segnò il Carpi e vinse in nove una cosa del genere che squadra il Frosinone poi lì c'è una cosa simpaticissima perché la pagina del Carpi negli highlights invece di mettere l'audio originale dello stadio e c'è questo se guardate su YouTube ci ha messo l'audio dei tifosi del Frosinone che sbroccano contro la squadra e che si sente dopo 11 contro 9 regà che avete fatto ma come si fa regà una delle cose più belle che ho mai visto fare da un social media e invece leggo sulla scheda che tu oltre a essere diciamo quasi avvocato insomma praticante appassionato di fantacalcio e di karaoke hai fatto anche l'arbitro dal 2013 al 2018 ah eh sì sì l'ho fatto qui in provincia smisi al terzo anno di università perché comunque era pesante rientrare ogni volta per fare la trasferta lunedì ripartire per Roma e poi ero arrivato a un punto che andando avanti andavo in regione quindi dovevo dire non fare più le trasferte in provincia ma farle a chilometri chilometri sì 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 quindi roba che comunque ti dovevi alzare la domenica pranzare alle 10 andare tornare e poi andare a Roma il giorno dopo alle 6 quindi ma raccontami un po' cioè io non ho la minima idea di come funzioni a livello cioè io so che se un bambino vuole giocare a pallone si iscrive a una scuola calcio e fa gli allenamenti tira il calcio al pallone finché non diventa Maradona ok sì 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 non ci diventa nessuno e lì tu fai il corso ti iscrivi al corso che c'è ogni anno qui ad Arezzo è verso novembre dicembre ti fai anzi forse anche prima forse è settembre ora che ci penso sì sì settembre ti fai tre mesi di corso quindi lezioni lì alla alla sezione che qui ad Arezzo è allo stadio quindi vicino a casa mia io abito a 800 metri 600 metri e fatto quello ti fanno un esame che poi insomma la formalità i test atletici per essere in regola diciamo e poi da lì verso da noi alla cena di Natale c'è proprio l'immissione ufficiale e poi da lì inizia a fare verso febbraio gennaio febbraio le partite parti da arbitrare i bambini esordienti giovanissimi e poi andando vedendo insomma fin dove arrivi tu arrivai alla terza categoria poi dalla seconda in Toscana e regionale quindi implicava trasferte che comunque per la mia situazione erano proibitive perché non potevo farle e poi andare a Roma il giorno dopo per fare una partita di seconda categoria con tutto il bene no quindi smisi lì però lì sai più che la più che la partita che comunque hanno divertenti hanno impegnative dalla juniores alla terza categoria anche la juniores è considerato che comunque avevano all'epoca la mia età perché avevo 18 17 18 anni quando le facevo e loro uguale quindi comunque solo contro 22 persone più le panchine non era semplice però insomma poi si faceva tutto più che le partite era bello il clima all'insezione perché comunque poi o allenamenti o o comunque le riunioni dopo le riunioni le cene così per vedere il turno di serie A comunque c'era un bel ambiente sicuramente un bel gruppo ancora tanta gente con cui mi frequento l'ho conosciuta lì anche loro hanno smesso però poi sono rimasti amici al di fuori comunque ci vuole il pelo per fare l'arbitro sullo stomaco cioè guarda a me in tutti questi anni a parte i primi quei bambini quello niente anche se qualcuno gli capita qualcosa anche con i bambini ma lì con i genitori però perché poi con i bambini sono i genitori esatto di base quasi nulla ad altri ho visto che invece purtroppo sono successe cose brutte qualcuno la proprio buscate insomma cose censurabili lì un po' di spiegazione me ne ero anche data non vorrei niente di brutto però siccome i cretini ci sono sarebbe meglio che uno venisse mandato a fare la terza categoria dopo che ha fatto un po' di esperienza in almeno in giovanili se si esatto perché quando io e quelli del mio corso più o meno tranne alcuni fenomeni che uno mi pare già in serie D lo vedremo in serie A sicuramente perché lo vedo molto molto bravo spara il nome spara il nome però allora eh no non posso non posso se poi non ci arriva e mi sente anche se non sa chi sono ma non è che siamo chissà che amici però se poi mi sente però dicevo quelli del mio corso mi ricordo che più o meno abbiamo avuto un percorso graduale abbiamo fatto tante partite in uniones quantomeno prima di fare la terza categoria mentre mi ricordo che quelli del corso dopo o quello dopo ancora tendevano a provare un altro approccio che era un paio di partite buone ti mando su e qualcuno l'ha sofferto il passaggio dalla dalla riunione sarà terza senza esperienza sì perché in altro mondo lì poi sono tutti tutti il doppio la tua età era solo veramente c'era l'ave paura posso immaginare arbitrando non ci pensavi però quando ti arrivava la designazione vedevi questa quella squadra che sapevi che erano delle robe non ci dormivi la notte quindi ti capita ti capita di vedere le partite anche del Genoa dall'ottica dell'arbitro oppure le mani di quel paio è lo stesso però poi io so che ti arrabbia con l'arbitro quindi però mi è rimasto sì ricapire un po' prima quando c'è una situazione quando c'è da tirare fuori il seschietto e quindi conseguentemente sapendo prima di noi quando l'arbitro deve fischiare la bestemmia poi è molto grossa perché poi io te lo dico ma come dicevo spesso ai miei amici se se facessi il che ne so uno di quei dirigenti nelle squadre dilettantistiche tipo massaggiatore queste robe qua aiuto io lì sarei sempre spulso sarei sempre spulso Harry hai qualche domanda? passiamo all'attualità ma allora io farei un'ultima un'ultimissima domanda per tornare un attimo sul focus di Arezzo perché abbiamo la possibilità adesso che insomma gireremo per le regioni d'Italia di fare un po' un tuffo in quelle che sono le varie tradizioni enogastronomiche locali qua vabbè ne prendiamo prendiamo due regioni in una perché magari Alfredo ha qualcosa da consigliarci se andiamo magari dalle sue parti di particolare sia se andiamo ad Arezzo sia magari se andiamo a Lecce in Puglia io lo anticipo un attimo mi ero segnato fra le varie non sono andato a sondare Lecce perché diciamo tu sei di Arezzo quindi sono andato a vedere Arezzo fra le cose un pochino più particolari mi ero andato a scovare questa scottiglia no? Tu tu lo conosci mi scrivi un attimo perché io non l'hai mai sentita ah vabbè allora vabbè 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 niente magari soprassediamo però allora allora a sto punto te lo consiglio io perché mi sembra una roba magari da non mangiare a ferragosto fai arrivare un pochino all'inverno ma se mi dici cos'è perché magari è un altro allora allora praticamente è una un piatto montanaro no? che dice addirittura che sembra sia nata ad Arezzo nel medioevo anche se alcuni reperti dicono che sia addirittura una ricetta etrusca e prende anche il nome di cacciucco di carne e magari quello ti è più familiare è più familiare anche se non ecco in pratica un po' come nel cacciucco non ci sono le dosi non ci sono i pezzi di pesce precisi che si deve mettere non c'è una vera propria ricetta ufficiale qui si mette un po' quello che si vuole quello che si trova è una metà strada tra un ragù e uno stufato che ha un gusto sicuramente deciso che che si serve in dei cocci e si accompagna con panna brustolito magari sì sì qualcosa di simile guarda il nome non mi dice niente però qualcosa di simile sì te la portano quasi sempre nei ristoranti poi io penso io lavoro con il vino quindi penso che lì sia proprio terra di Chianti e io sarei strafelice una delle cose da fare la sera spesso è andare alla vineria a Piazza San Francesco e fare un calice di vino uno? solo uno? sì no dipende dalla serata quando sono più di uno di solito è quando andiamo a cena in vineria e lì ne facciamo ogni tanto tanto l'Oster è un amico di famiglia anche quindi ci conosce e quindi lì poi zitto zitto si fa la si fa la marchetta all'Oster bravo bravo giusto giusto parliamo di Osteria e allora visto che come dicono gli esperti delle trasferte nelle serie minore si mangia meglio dicci il nome di quest'Osteria per i nostri amici genuali in ascolto nel caso in cui Antica Osteria Agania come scusami? Antica Osteria Agania perfetto credo anche storicamente tra le più antiche di Arezzo come dice noi ma non ho idea e che cosa ci consigli di provare lì questa Antica Osteria? eh le classiche cose toscane fa pardelle al cinghiale anatra al forno detta Nana ad Arezzo crostini anche li fa molto buoni dei crostini al tartufo e salsicce tartufo mi pare ma lì si mangia bene un po' tutto quello che c'è nel menù abbiamo negli anni provato tutto lì è veramente sempre buono spaziale bene direi visto che i tempi stringono se Henry è d'accordo parliamo un po' di Genoa di attualità ovvero abbiamo giocato a Palermo venerdì scorso è arrivata purtroppo la prima sconfitta sconfitta immeritata per 1-0 che ovviamente ha aperto un sacco di discussioni e anche polemiche volendo su un po' l'allenatore su un po' insomma come vedi il Genoa in questo momento quali sono le tue impressioni come pensi che si andrà avanti io anche sul gruppo di realtà genoana sono un po' litico perché non sono soddisfatti di alcune cose che secondo me sono proprio rampanti tutto il bene ma ci sono delle cose che proprio non riesco dell'allenatore dici si si di come mi è messa in campo la squadra a partire dal modulo poi vabbè Portanova Ecuban io sono due anni e gli ho fatto una crociata lavorosa per di più Ala Portanova no la cosa che non mi piace di più è questo questo ruolo di coda un po' che lo sa fare perché l'ho visto anche a Lecce lui le sa fare molto bene anche le sponde però va sfruttato per la sua miglior caratteristica che è la prima punta è il senso del gol non puoi mandarci in porta Ecuban che con tutto il bene ha fatto credo due gol in 50 partite quello che è non lo so poi Ecuban e Portanova si impegnano tantissimo quindi non è che c'è niente contro in particolare però io li metterei in campo un po' in modo diverso ci sta ci sta che sia ancora un po' in fase embrionale come squadra però poi sai 4-3-2-1 come dico sempre qualcuno magari si arrabbia quando dico però si fa per parlare tanto poi decide sì no no assolutamente guarda io neanche più di tanto al è però se dici che non ti va bene influencing questo qui sta ascolta a me è arrivato è messo male si si ascolta a noi farà lui le sue valutazioni si fa a noi per parlare secondo me ecco però penso te lo dico la squadra è proprio non c'entra proprio niente con nessuna altra squadra della categoria e per me non lo sta rendendo assolutamente per quello che può fare cioè sì secondo me diciamo che allora tediamoci non è che Tobia lo sa la mia linea non è che sia pro blessing senza se senza ma cioè come diceva come dicevano oggi nel TG di realtà genuana già che l'hai menzionati prima bisogna essere pro genua nel senso che sì no infatti io ci andiamo con lui o con un altro non mi interessa credo che credo che bisogna lasciarlo lavorare in questa fase sicuramente è un allenatore che è da dimostrare molto tanto non molto tanto molto sì dimostrare molte cose esatto moltissimo sicuramente ha dimostrato che a livello di comunicazione motivazionale per la squadra è incredibile perché ha trasformato in una squadra vera una cozzaglia di giocatori che avevano preso sei pappine a Firenze lui sicuramente gli va detto che è molto bravo a fare gruppo però bisogna vedere se basta perché se poi giochi adesso secondo me va atteso di vederlo con tutti i giocatori nuovi a disposizione allora è chiaro che se poi dopo c'hai Aramo in forma che attualmente non lo è se visto con il Palermo se tu hai Puscoa si informa come fai a giudicarlo dai beh però è un'ala comunque l'ha fatto l'ala non è che ma lì non era ala lì credo fosse l'esterno l'ha messo esterno tutto fascia l'Azovich lì per dirne uno che in realtà c'è stato gli ultimi dieci minuti però gli ultimi minuti perché io ho visto che quando l'ha messo insieme a Yalcin che era mi sembra tipo il quattordicesimo del secondo tempo giocava con Aramo che giocava dietro le punte quindi trequartista Aramo poi Aramo adesso non mi ricordo ma come si pronuncia poi gli ha fatto quella roba ha preso tre colpi anche lì quello però dopo Aramo proprio appena entrato ha preso tre falli da giallo tutti e tre dai tre centrali del Palermo che lo hanno condizionato presentemente secondo me perché ha preso dei brutti falli una volta che poi Blessin ha cambiato modulo ovvero ha tolto FT e ha messo Puskas dentro mettendo quattro punte più bani da una roba lì sì lì era completamente fuori ruolo era era completamente fuori ruolo però fisicamente nonostante ciò si notava e questo è un aggravante per Blessin che Aramo comunque non è ancora in forma però non è ancora in forma da un mese quanto tre settimane cioè boh sì deve entrare lui in forma e probabilmente a livello fisico la preparazione che hanno fatto in estate deve essere stata qualcosa di importante io guarda proprio ti dico brevemente la mia secondo me la polemica sull'allenatore a prescindere da come giochi il Genoa in questo momento sia che giochi bene sia che giochi male secondo me è fuori luogo per un solo motivo siamo alla quinta di campionato e abbiamo perso solo una partita tra l'altro una partita in cui comunque il Genoa giocando malissimo con l'allenatore che comunque è andato in confusione sul finale ha comunque creato tante di quelle occasioni che obiettivamente il pareggio già era stretto perché il Genoa ha attaccato bene c'è anche da dire che insomma i lavoratori che abbiamo noi non sono quelli che ha in difesa il Palermo il Palermo certo però il campo comunque io vedo io vedo tante individualità che creano ma una cosa corale un'azione corale non l'ho mai vista ho visto sempre Albert nelle altre partite coda in questa un po' da soli fare tante azioni non lo so speriamo che insomma con le settimane adesso c'è Modena e poi c'è una sola forse lo cambia il modulo spero poi c'è modo anche di giocare a pallone perché poi bisogna anche vedere che cosa intendiamo per dare un gioco alla squadra perché per esempio il Genoa di Cosmi non è che avesse questo gran gioco però aveva una squadra fortissima in mezzo al campo aveva una diga la serenità di Castori mi basta questo quindi deve più che altro fare bene il suo modo di giocare che chiaramente deve diventare più concreto e deve avere a disposizione tutta la rosa e allora lì secondo me dopo la sosta poi lo potremo giudicare poi vabbè senza andare troppo indietro nel tempo visto che comunque anche tu Alfredo sei stato arbitro come abbiamo detto poco fa e diciamo che il Genoa anche da quel punto di vista lì nelle partite non parlo di Palermo è vero che ci sono stati un paio di episodi sfavorevoli però 12 punti dovresti avere non mi attaccherei a queste robe onestamente con tutto che è vero che cioè mi sono arrabbiato parecchio anch'io lì per lì dopo le partite ma sì non è una scusa non so quanto influenzasse però non mi attaccherei a queste cose cioè veramente il Palermo no però sono la formazione del Palermo mi sarei meravigliato di non vincere 3 a 0 abbiamo perso non tanto nella partita del Palermo quanto anche in altre partite precedenti perché per esempio anche col Benevento ci sono stati episodi un po' così quindi diciamo che qualche punto in più potremmo comunque averlo però si è visto anche in Serie A cioè il livello è un po' sceso sì sì poi in Serie A è da pazzi è una roba incredibile è una roba incredibile sì 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 perché la canna è stata unita quindi è chiaro che chi viene promosso in B ancora Apriano farà un po' di gavetta in B e poi andare in A però molti di A vengono a fare partite di B sì 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 poi scendono in B Kiffi Paglietto mi pare Errati anche dovremmo avere abbiamo già avuto insomma sì sì no comunque non ti preoccupare che anche all'interno di tutti i vari rappresentanti di Genoani si resta nel mondo sei in buona compagnia su chi la pensa come te nel senso che riguardo alla situazione attuale del Geno quindi no sì sì ma io lo dico tanto si fa per parlare io personalmente l'avrei già cambiato ma perché ci sono comunque c'è un pregresso della scuola però tanto deciso loro perché magari ormai speriamo solo bacia a me ecco io non avrei magari non avrei cominciato con lui allora più che altro esatto quello anche sì però sai io lo dissi questo lo per lo terrei per la salvezza non lo terrei per la promozione perché quella compattezza unità gruppo serve molto per salvarti non basta perché vince un campionato secondo me infatti secondo me non l'abbiamo ancora visto non l'abbiamo ancora visto e e ti dico ci sta quello che dici e a oggi è così a oggi a oggi è così nel senso che a oggi se tu guardi i fatti vedi un Genoa che non gioca benissimo a livello di qualità di spettacolo vedi un Genoa molto solido molto concreto molto compatto e poi c'è questa macchietta della partita di Palermo però ecco o non partivi con lui adesso alla quinta di campionato secondo me merita tutto perché si sbaglia a mandare in porta l'attaccante sbagliato dovrebbe essere Kuban che fa il cross a coda secondo me e anche lì anche lì però secondo me sì allora è verissimo oppure coda che fa il cross a ramo ma non è Kuban che l'abbiamo visto da due anni che non segna no no ma hai ragione hai ragione perché secondo me oltre a chi chiaro che Kuban essendo quello veloce gli ruba diciamo lo spazio perché potrebbe giocare forse dove in questo modulo qua dove gioca Portanova no? a fare un po' di botte cross cose così però però non la vede possiamo dire dopo gli anni che la porta non la vede però il punto è che secondo me il miglior coda lo dobbiamo anche vedere anche lui così come il miglior blessing perché perché già è uno che di suo va in forma ci mette un pochino all'inizio del campionato anche ora queste partite che non è al top due o tre giocanti sì no e secondo me anche con i carichi di lavoro di blessing di quest'anno sono stati carichi importanti con uno con il suo fisico probabilmente deve avere il tempo di rispondere speriamo che non abbia la maledizione di tutti i crack che vengono a Genova e poi invece non scoppietta ma no e che poi invece quelli che da noi sembrano delle scamorze quando vanno da altre parti e Cuban adesso se lo vendiamo diventa Balotelli ma sì sì è sempre così però però io dopo che ho visto Famiglia fare tre gol di fila ho detto basta invece guarda visto che comunque non abbiamo più ancora molto tempo poi siamo siamo in chiusura ora stavamo parlando di attualità ma direi che diciamo insomma abbiamo capito la tua filosofia riguardo riguardo al Genoa di adesso tu vedo che dicevi che la tua più grande delusione vissuta da Genoano è la mancata licenza UEFA che di fatto ha segnato lo spartiacco e tra il Genoa competitivo esatto perché del 2007 il Genoa poi perennemente nei bassi fondi e alla canna del gas fino a fine era prezioso ecco quindi è proprio un momento che segna due due ere tranne vabbè quelle due annate 12-13 quelle due lì del Genoa europeo gli altri annuali di Gasperini e comunque giocavi segnavi vincevi due volte sei andato in Europa appunto la la licenza UEFA è stata una cosa però poi con il Doria che ci va preciso al posto tuo che fanno anche loro la stagione della vita lo stesso anno che la fai tu e quindi non andandoci ci vanno loro fantasciente sì 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 solo a Genoa può capitare solo a noi possono capitare ma volevo ricollegarmi a questo discorso proprio per chiederti perché chiaramente giustamente la tua opinione è un po' critica sulla gestione attuale quantomeno quella dell'allenatore però visto che per l'appunto il tuo momento più basso lo consideri poi diciamo gli ultimi anni quello che è un momento fuori dal campo ecco queste cose sono peggio secondo me no no però intendo dire però al contrario ora poi quando è arrivata questa nuova gestione no dopo Preziosi dopo che nonostante la retrocessione dell'anno scorso tu vedi tu vedi che a Genova c'è una grossa grosso entusiasmo tu lo percepisci lo vivi anche tu sì 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 perché comunque anche la campagna acquisti ma in questo senso la squadra la rosa ma in questo senso ma proprio a prescindere proprio dal campo no diciamo a prescindere anche proprio dal dal momento calcistico dalla squadra dalla rosa no cioè a Genova per noi è proprio una cosa come dire wow abbiamo proprio una proprietà che negli anni con un progetto solido al centro ma non soltanto per la prima squadra sportiva esatto per il settore giovanile per il settore femminile per quello che è il rapporto con la città con la tifoseria 60 gradi la cosa più più importante in questo senso è che abbiamo smesso di giocare per fare il mercato ma si fa il mercato per giocare questa è la cosa più importante che credo ha dato più entusiasmo di tutti perché se non puoi vedere nessuno che dopo due mesi va via prima era a fine anno da Piontech è diventato sei mesi quindi sì 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 assolutamente infatti mi ricordo che inverno 2018 inverno 2018 dissi vabbè Piontech dicevano tutti ora vedi andrà sicuramente via ve lo vendo ho detto no lo venderà l'anno prossimo ma a gennaio no perché non l'ha mai venduti e invece dall'inpoio è stato a venderli a anche da quella volta in poi ha iniziato a accorciare i tempi li comprava già con la targhetta del prezzo attaccata alla schiena perché veramente la cosa ecco una delle cose più vergognose di quell'anno lì è stato il Piontech Day quella è stata una cosa veramente sì sì ecco con questa proprietà queste cose qua anche a Natale il video di tutti i gol che aveva fatto e sei giorni dopo venduto tipo una cosa una cosa una mancanza di rispetto continua quotidiana che abbiamo dovuto subire e ciò nonostante abbiamo sempre fatto di ciò 19 mila buonamenti cioè siamo dei folli e quindi e quindi niente cioè al di là di tutto comunque anche tu hai fiducia in questa società sì 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 va bene ma voglio dire finché si sbaglia anche in buona fede pazienza prima non era neanche quello era proprio bravo hai colto il punto mala fede il punto è proprio quello lì sì nulla quindi io direi che abbiamo poco tempo chiudiamo con il gol più bello che tu hai che tu hai il gesto tecnico più bello che hai visto fare da un giocatore del Genoa in una rete segnata dal Genoa ci hai detto che è quello di Genoa-Lazio mi ha trovato in mente un gol di tacco di Palazio 2012 credo sì non sono anche dato a rivedere su YouTube era proprio quello sì sì sul primo palo giusto era un 1-0 di un 3-2 mi pare una cosa del genere sì 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 1-1 di un 3-2 è il trenza è il trenza non so se era la stessa partita o era l'anno dopo un altro Genoa-Lazio 3-2 o se era proprio quello che segnò all'ultimo secondo tale Rigoni Marco una cosa del genere Luca forse Rigoni Luca no Marco era prima di quello biondo era quello che c'era nel 2012 2013 segnò dalla rimista laterale cross gol e quel gol lì l'ho visto mi ricordo era andato non funzionava Sky e accesi la la radiolina in bagno e sentì che aveva segnato all'ultimo secondo sto Marco Rigoni mi ricordo esultanza dentro il bagno e non so se era proprio quella partita o un altro 3-2 perché mi ricordo che ce ne è un paio di ci fu un filotto di 8 vittorie contro la Lazio sì è vero è vero era parte di quel filotto non so se era lo stesso 3-2 o se era un altro non mi ricordo un filotto di 8 vittorie con la Lazio mi sembra quasi di sognare non mi sembra essere possibile dopo quello che abbiamo fatto bestie nere ci sono sempre state ricordo la Juve col Chievo che perdeva sempre bellissima parlando di bestie nere tornando marginalmente all'attualità il Palermo è una bestia nera incredibile del Gena perché a Palermo soprattutto in casa fosse stata quella che la manna entrò in porta con la palla sì sì c'è una cosa e poi un'altra gioia fu quando la partita prima di quella che la manna parò il rigore che se andavamo in B eh sì è vero anche con la parata di la manna lì fu veramente apoteosa proprio mi ricordo ero distrutto quando fischiavano il rigore e poi parata misa a brullare e la partita dopo invece fece quella cappella che entrò con la palla in porta in porta vedi va a Palermo Palermo si porta male bene speriamo che vada meglio la prossima partita con il Modena siamo abbiamo parlato di gol all'ultimo secondo siamo agli ultimi secondi anche noi di questa prima puntata di giorni di sera sei a Italia siamo molto contenti di averti avuto qua come ospite grazie Alfredo e nulla un saluto da Barcellona e grazie per aver partecipato grazie Alfredo grazie mille prima puntata direi che Harry è andata abbastanza bene sono molto contento personalmente e volevo anche ringraziare i ragazzi di Genoani si resta e anche Andrea Moresi di Radio Sena che passerà poi la puntata grazie a tutti allora e alla prossima avete ascoltato Genoani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti 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 Grazie.